Logaritmi, bentornati sul mio canale. È da tanto tempo che non faccio video, sto facendo gli esami e adesso li ho finiti, quindi spero di riuscire a farne di più, ma non garantisco niente. Oggi tratteremo di un argomento molto difficile, che prenderà diverse video lezioni, ovvero della fisiologia del movimento. Inizieremo dalla parte più facile, il cavallo tra la neurofisiologia e la fisiologia muscolare, che è appunto come funziona il muscolo e come è strutturato. Quindi, allora, un muscolo non è nient'altro che una struttura del nostro organismo circondata da una membrana periferica, che si chiama epimisio, che a sua volta si divide in diversi setti che circondano tante fibre muscolari, con la formazione di quello che invece è noto come perimisio, e poi da strutture fondamentali, che non sono altro che le cellule che compongono questa struttura. Ovvero le fibre muscolari. Ogni fibre muscolare poi, al suo interno, ha delle strutture contrattili. Infatti, vista in sezione trasversale, potete fare caso al fatto che abbia praticamente tante macchie, se vogliamo, che non sono altro che le miofibrille, quindi le strutture date da tutte le proteine contrattili all'interno del muscolo, e che danno anche un aspetto in sezione longitudinale, tigrato, o striato, appunto, al muscolo striato, del quale trattiamo oggi. Il muscolo è una struttura che ha la proprietà di contrarsi, quindi queste cellule longitudinali che abbiamo appena visto, le fibre muscolari, possono accorciarsi lungo il loro asse e quindi dare vita alla contrazione. E lo fanno grazie a un cambiamento del potenziale di membrana. Ma nel far questo non sono indipendenti, spontanee e isolate, ma riescono ad avere delle contrazioni, diciamo, utili al movimento, solo grazie al controllo dei neuroni, o meglio, dei motoneuroni, che sono appunto quella classe di neuroni dedita al controllo dei movimenti. Qui ne è rappresentata una parte, ovvero l'assone di un motoneurone con tutti i suoi terminali sinaptici che finiscono sulla fibra. Questo motoneurone deriva da dei nuclei che si trovano a livello delle corne anteriori del midollo spinale. Finora noi abbiamo visto sul canale dei sistemi fondamentalmente sensitivi e quindi ci siamo concentrati sulla parte posteriore del midollo spinale. I motoneuroni, invece, derivano dalla porzione anteriore del midollo, escono con i loro assoni dalla parte ventrale, formando quindi rami ventrali, e con i loro assoni giungono appunto a livello dei muscoli. Non ci occuperemo in questa lezione dei controlli motori superiori, quindi di tutto quello che ha a che fare con il cervello, i gangli della base e così via, ma guarderemo solo come funziona la stimolazione di un muscolo a partire dal secondo motoneurone in poi, fondamentalmente. Bene, abbiamo visto appunto che questi neuroni controllano i muscoli. Introduciamo quindi il concetto di unità motoria. Ogni fibra muscolare, ognuna di queste cellule infatti, è controllata da un motoneurone. Non è vero però il contrario. Infatti un motoneurone può controllare, ad esempio, facciamo tre fibre muscolari, così come ne può controllare un numero molto maggiore. Un motoneurone con tutte le fibre muscolari da essere innervate costituisce quella che appunto viene detta unità motoria. Le unità motorie sono diverse. Abbiamo appena visto come lo possono essere dal modo di vista della numerosità delle fibre muscolari controllate da un neurone. E questo ha un significato fisiologico molto importante, in quanto ci sono muscoli e muscoli. Noi abbiamo per esempio il più forte muscolo del nostro corpo, il quadricipite, che ci aiuta nella stazione retta, serve ad estendere il ginocchio, serve nella deambulazione. Ed è un muscolo che però non è necessario che sia preciso nei suoi movimenti. Noi quando camminiamo, quando stiamo in piedi, non abbiamo bisogno di fare dei movimenti perfetti al millimetro. Abbiamo bisogno però di generare tanta forza e anche di generare una forza continuativa. Al contrario, per quanto riguarda i muscoli delle mani ad esempio, abbiamo bisogno di compiere tanti micromovimenti e dobbiamo farlo in maniera molto precisa per manipolare degli oggetti. Quindi possiamo capire intuitivamente come a livello della mano possa essere più utile avere un motoneurone di questo tipo. Un motoneurone che quando si accende, quando si attiva, manda il suo segnale di attivarsi a poche fibre muscolari, in modo tale che si possano compiere dei micromovimenti e non dei movimenti grossolani, in modo tale che vengano reclutate solo pochi muscoli o poche porzioni di muscolo e generare una forza proporzionale al movimento che si vuole ottenere. Al contrario, quando abbiamo un motoneurone di questo tipo che attiva contemporaneamente delle grosse porzioni di muscolo, delle grandi masse muscolari, avremo la generazione di tanta forza, ma non avremo la generazione di una forza precisa, ben localizzata, molto fine. E questo può essere più utile ad esempio in un muscolo come il quadricipite o dei muscoli antigravitari che non devono fare dei movimenti fini, ma che devono essere reclutati in maniera massiva in molti momenti della giornata. Oltre a essere distinti in base al tipo di unità motoria, i muscoli hanno una differenziazione intrinseca in base al tipo di fibra dai quali sono costituiti. Le fibre muscolari all'interno di un muscolo infatti non sono tutte uguali, quindi ce ne sono fondamentalmente di due tipi, che sono le tipo 1 e le tipo 2. Queste a loro volta si differenziano così in base un po' alla genetica, all'attività fisica e al tipo di neurone dalle quali sono innervate. Queste due fibre muscolari hanno dei significati e delle proprietà diverse. Le fibre muscolari di tipo 1 sono delle fibre che si affaticano molto più lentamente rispetto alle tipo 2. Sono ricche di mitocondri e quindi possono andare incontro ad un metabolismo ossidativo, possono produrre tanta energia in lunghi tempi e quindi possono essere utilizzate per tutti quei tipi di attività fisica dove è richiesta un'attività costante che non si affatichi ma non un'esplosione di forza improvvisa, come può essere ad esempio l'atto di camminare o di fare uno sport aerobico. Al contrario, le fibre muscolari di tipo 2 sono delle fibre che invece che puntare tutto sul metabolismo aerobio devono generare molta forza in poco tempo e quindi sfruttano l'organizzazione delle proteine contrattili che sono molto forti, presenti e numerose ed anche in molti momenti il metabolismo anaerobio, quindi un metabolismo più rapido che però non può essere sostenuto per lunghi periodi di tempo per la formazione di prodotti di degradazione fondamentalmente tossici per la cellula. E quindi, insomma, questi due tipi di fibre servono a movimenti diversi. Se dobbiamo fare uno scatto verranno reclutate principalmente le fibre di tipo 2 e invece durante la corsa, per la maggior parte del tempo, verranno attivate le fibre di tipo 1. C'è anche una tempistica diversa di attivazione. Di solito prima si attivano le fibre di tipo 1 e poi solo dopo c'è il reclutamento delle tipo 2. Ok, cancello un attimo. Oltre a questa differenza, diciamo, nel metabolismo e nel tipo di fibra, la forza muscolare, il tipo di forza muscolare, può essere anche regolato in una maniera, diciamo, prettamente nervosa. I mutoneuroni, infatti, possono decidere quanto attivare un muscolo con due strategie. Una è una strategia temporale. Fondamentalmente, come vedremo più avanti, un mutoneurone, quando si attiva e quando causa l'attivazione del muscolo sotto il suo controllo, non fa altro che creare degli influssi di calcio all'interno del muscolo e apportare la contrazione. Questo lo può fare attivandosi una o poche volte. Quando un mutoneurone porta un singolo potenziale d'azione, avremo come risposta da parte del muscolo un piccolo twitch, una formazione di una bassissima forza, fondamentalmente perché la quantità di calcio che viene rilasciata all'interno del muscolo è irrisoria e viene prontamente riassorbita. Al contrario, se il neurone ha bisogno di reclutare il muscolo per una contrazione più forte, può decidere di generare numerosi potenziali d'azione in una sequenza molto più elevata con un rate più alto. In questo caso, l'influsso di calcio sarà più sostenuto e quindi vedremo la forza muscolare progressivamente crescere fino a una soglia oltre la quale il muscolo non può aumentare di più la sua contrazione e fino a raggiungere una contrazione massimale alla frequenza massima, ovvero il tetano. Oltre a questa strategia, i motoneuroni poi hanno una strategia più spaziale o numerica, se vogliamo, ovvero quella semplicemente di reclutare più motoneuroni. In questo caso non saranno accese solo le fibre del motoneurone 1, per esempio, ma verranno accese anche le fibre del motoneurone 2, poi dal 3 e così via fino a reclutare una porzione sempre maggiore di muscolo. Questo dipende molto dal controllo della corteccia e fondamentalmente anche dalla dimensione dei motoneuroni. Infatti i vari motoneuroni, proprio per una questione fisica, ovvero per una questione di dimensione, hanno delle resistenze e quindi delle soglie per la depolarizzazione di membrana diverse. Quindi in base alla quantità di stimolo che arriva dai centri superiori, verranno prima reclutati i neuroni con una più bassa soglia per generazione di un potenziale d'azione e poi successivamente quelli che richiedono una stimolazione più elevata. E questo corrisponde anche a quello che abbiamo visto prima, ovvero al fatto che il reclutamento muscolare è un fenomeno progressivo. Non viene immediatamente reclutato tutta la quantità di motoneurone, quindi tutta la quantità di fibre necessarie all'esecuzione del movimento che viene programmato, ma ci sono varie soglie, vari momenti dell'attivazione muscolare. Quindi, adesso andiamo a vedere come funziona questa benedetta contrazione muscolare. Come ho già detto prima, ignoreremo il controllo superiore, partiremo direttamente dal secondo motoneurone, quindi dal motoneurone che compone un'unità motore che innerva direttamente il muscolo. Come sappiamo, un motoneurone può generare dei potenziali d'azione. Quello che succede quando il neurone si depolarizza è fondamentalmente l'ingresso di ioni calcio e questo causa la fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana del neurone stesso ed il rilascio di neurotrasmettitore. Nel caso dell'aggiunzione neuromuscolare, ovvero il punto di incontro tra l'assone, cioè tra il bottone sinaptico dell'assone, e la membrana del muscolo, il neurotrasmettitore importante è l'acetilcolina. A seguito dell'eccitazione del neurone, l'acetilcolina viene rilasciata nel synaptic cleft. Qui l'acetilcolina si lega a di recettori per l'acetilcolina. Il legame recettore-acetilcolina causa a sua volta l'ingresso di ionisodio nella cellula muscolare, nella membrana della cellula muscolare. La membrana della cellula muscolare però è una membrana particolare, infatti si ripiega su se stessa. In particolare si ripiega a livello dei tubuli T. Questi tubuli T sono delle strutture che entrano a diretto contatto, fondamentalmente, con delle strutture endocellulari, ovvero con il reticolo sarcoplasmatico. Questo è importante perché i tubuli T possiedono una proteina sensibile al voltaggio, il recettore della diidropiridina, insomma il DHPR. Mentre a livello del reticolo sarcoplasmatico c'è il RIR, il recettore rianodinico, diciamolo qua. E inoltre dentro il reticolo sarcoplasmatico sono presenti gli onicalcio. Quindi, quando c'è l'attivazione del neurone, la generazione di impotenziate d'azione, la depolarizzazione della membrana del neurone, l'entretta di calcio, il rilascio dell'acetilcolina. L'acetilcolina si lega ai recettori per l'acetilcolina a livello della membrana della cellula muscolare, anche detta sarcoplasma. E la membrana si quindi depolarizza. Questa depolarizzazione della membrana ha un'influenza sulla proteina di HPR, la proteina del tubulo T. Questa proteina è infatti sensibile al voltaggio e, in base al cambiamento di voltaggio, cambia la sua conformazione. Quando la sua conformazione cambia, questa fa in modo, essendo a contatto con essa, che RIR, la proteina invece del reticolo sarcoplasmatico, si apra fondamentalmente. Questa RIR è un canale per il calcio. E quindi il calcio, una volta che c'è stato il cambiamento conformazionale di DHPR, che ha scatenato un cambiamento conformazionale di RIR, può uscire dal suo canale. E quindi, in buona sostanza, c'è un rilascio di calcio all'interno della cellula muscolare stessa. Questo rilascio di calcio è fondamentale perché è quello che fondamentalmente porta alla contrazione muscolare stessa. Infatti, grazie a questo ione, abbiamo la generazione del ciclo della miosina. La miosina e l'actina sono le proteine contratti, i contenuti del miofibrille, di cui si parlava all'inizio del video. E per far sì che avvenga un movimento devono entrare in contatto tra loro. Questo ciclo possiamo guardare partendo da questo step qui, lo step 1. Abbiamo la miosina e l'actina. La miosina è quella in arancione, anche detta filamento spesso, mentre l'actina è una struttura, anche detta filamento sottile, è circondata da altre proteine, la tropomiosina e la troponina, che la tengono un po' mascherata dall'attività dell'actina. Inizialmente queste due proteine sono in contatto, nello step 1, e poi c'è un'entrata di ATP, la molecola energetica della vita, e le teste della miosina si distaccano rispetto all'actina, nello step 2. Che succede è che l'ATP viene idrolizzato a livello delle teste della miosina e viene trasformato in ADP. Le teste della miosina con il loro ADP legato possono debolmente entrare in contatto con l'actina, ma è solo grazie all'entrata di calcio, che a sua volta si lega sulla troponina nel sito C, che a sua volta fa scivolare la tropomiosina, che finalmente i siti di legame tra miosina e actina vengono scoperti. Le teste della miosina si legano soldamente all'actina e hanno un cambiamento conformazionale improvviso, ovvero il power stroke, cioè la contrazione in cui si vede scivolare la testa della miosina sull'actina, cioè è come se la miosina tirasse sull'actina. Tutto avviene con il rilascio del gruppo fosfato e poi ci sono due step che qui ho saltato, in cui fondamentalmente si ha un riarrangiamento conformazionale e viene perso anche l'ADP che era legato alle teste di miosina e tutto ritorna nella situazione iniziale. Grazie a questo ciclo di legame delle teste della miosina sull'actina e di raggio, di contrazione, abbiamo poi l'effetto macroscopico, che è quello della contrazione del muscolo stesso. Il tutto ovviamente è innescato da questo io e qua, dal calcio, che permette, come abbiamo visto, i due step più importanti, ovvero il legame forte e poi il power stroke. Per l'entrata del calcio stesso, come abbiamo visto, serve l'innervazione muscolare. Quindi questa è un po' la fisiologia del muscolo vista partendo dal secondo motoneurone, poi nelle parti successive analizzeremo invece il controllo più fine, le influenze motorie superiori e soprattutto anche i riflessi. Probabilmente la prossima lezione sarà su riflessi e poi ci occuperemo invece di cervello, non più di midollo spinale. Quindi vi ringrazio e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.